I biocarburanti sono stati i primi carburanti utilizzati nei motori. Per esempio Otto, che è stato l'inventore tedesco del motore a combustione interna, ha utilizzato l'etanolo nel suo primo motore nel 1876. L'inventore del motore diesel ha utilizzato come primo combustibile l'olio di arachidi, questo sempre nel 1897, mentre Ford, la sua prima macchina, ha utilizzato dell'etanolo. Da dove si producono i carburanti? I carburanti si producono dalle biomasse. Ci sono tre tipi di carburanti. Ci sono carburanti chiamati di prima generazione. Il primo è l'etanolo, o il biotanolo, che è utilizzato per i motori a benzina, con una certa modifica del motore, oppure potrebbe essere addizionato alla benzina fino al 5% di tutti quanti i veicoli. Il biotanolo viene prodotto da piante zuccherine, quindi da piante che potrebbero essere utilizzate anche per gli alimenti. Possono essere la barbevieta da zucchero, possono essere la canna da zucchero. Un altro è l'ETBE. L'ETBE è l'additivo per le benzine verti. Adesso si utilizza l'MTBE ed è prodotto da isobutene e da etanolo. E questo si addiziona alle benzine al 15%. Un altro carburante è il biodiesel, che viene ottenuto per trattamento degli oli con metanolo, che potrebbero essere oli di colza, olio ottenuto da mais, olio ottenuto da palma. Quello che viene chiamato diesel verde o diesel rinnovabile, che è prodotto solamente per adesso in Finlandia per idrogenazione degli oli, trattamenti catalitici. L'ENI ha messo a punto un processo insieme all'UOP, un'industria americana, avrebbe dovuto creare questo impianto uno o due anni fa a Livorno, ma poi è stato ritardato la creazione di questo impianto. Questi sono i biocarburanti di prima generazione, che sono quelli che utilizzano delle coltivazioni. Coltivazioni che sono coltivazioni di sostanze che sono utilizzate a fini alimentari. I carburanti di seconda generazione sono i carburanti ottenuti da scarti di lavorazione oppure da coltivazioni su terreni che non sono utilizzati per produrre sostanze per gli alimenti, perché sono terreni aridi o chiamati terreni marginali. Quindi sono coltivazioni non in competizione con gli alimenti. Questi biocarburanti sono l'etanolo, prodotto dai rifiuti cellulosici per fermentazione. Un esempio di questo è un impianto che sarà costruito nel nord Italia da parte della mosse ghisolfi, che sarà un impianto dimostrativo. Poi ci sono invece dei processi di produzione di diesel, a partire da una pianta che si trova in India e anche nel centro Africa, che è una pianta che produce un olio non utilizzabile a scopi umani. E anche questo è una pianta che cresce in terreni marginali e serve a produrre diesel. Oppure si possono utilizzare le alghe per produrre un olio che può essere utilizzato con biodiesel. E dopo c'è la possibilità di ottenere metano, un gas naturale, che viene ottenuto per fermentazione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno, di scarti liquidi, in particolare per esempio delle porcilaglie, questo viene già realizzato. Questi sono i carburanti di seconda generazione che dovrebbero essere quelli preferiti, diciamo, anche nel prossimo futuro, in alternativo a quelli di prima generazione che sono quelli utilizzati. E poi ci sono i carburanti di terza generazione, sono quelli prodotti per modifiche genetiche delle piante. Potrebbero avere dei vantaggi economici, ma hanno, diciamo, il difetto di avere la società contro, perché queste modifiche genetiche delle piante non sono socialmente accettate, almeno in Europa. Per esempio, le piante hanno cellulosa, producono emicellulosa e lignina. Quello che viene utilizzato per la fermentazione per l'etanolo è la cellulosa. C'è una modifica genetica delle piante per aumentare il contenuto cellulosa. oppure produrre delle sostanze zuccherine con modifiche genetiche dove è più facile portare via lo zucca.